Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità. In corso dalle 8 e 30 di questa mattina uno sciopero di 4 ore sulla rete ATAC. Chiusa la ferrovia Roma Lido prosegue il servizio della metro C. Possibili riduzioni di corse in queste 4 ore di sciopero potranno interessare metro A, metro B, le ferrovie Termini Centocelle, Roma Viterbo, così come bus, tram e filobus. Lo sciopero, lo ricordiamo, terminerà alle 12 e 30. Le altre notizie Roma esordio sulla flotta ATAC del primo bus sperimentale con lettore contactless per acquistare a bordo il biglietto con le carte di pagamento. Il primo bus TAP&GO sarà in servizio per i prossimi 15 giorni sulla linea 51 in centro. A bordo sarà presente personale ATAC per assistere gli utenti. Da ottobre TAP&GO verrà gradualmente steso sull'intera flotta di superficie. Per il momento è tutto. Un saluto dal Tg della mobilità.